Partecipa al concorso di idee il Molise in miniatura per realizzare nel comune di Venafro una grande e attrattiva turistica con la tua creatività. Il bando di concorso è disponibile sul sito www.moliseiminiatura.it e nelle scuole di ogni ordine grado del Molise. Il Molise in miniatura è un'iniziativa promossa e finanziata dal gruppo Scarabeo. Grazie a tutti.